Salve a tutti amici iscritti, e oggi benvenuti nella nuova puntata dell'Ecole Sede Paoli New. Lo so, vi siete mancati, la scorsa settimana ho pubblicato video di collezioni, ma non arrivano spesso perché sono un po' malato, ok? Oggi apriremo Anteprima Natale 2022 Episodio 2 con mini panettore dei Minos della Baloco Minos 2022, Kinder Joy e un pacchetto di carte di Skylanders. Apriamo prima i Kinder Joy Funko. Sì, sto trovando una marea di doppie ultimamente nel periodo. Vediamo cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato una doppia del tizio del protagonista che abbiamo già trovato, abbiamo trovato Rick. Se avete visto la cartina del primo episodio. Va bene. Apriremo un pacchetto di carte di Skylanders Battlecast. Li ho comprate al mercatino di Cagliari. Compratene al mercatino di Cagliari di Viale Abruzzo. Compratele se siete sardi, ok? Ma sfortunatamente non ho preso altri pacchetti di carte di Skylanders, che non voglio spiegare soldi perché siamo quasi al periodo di Natale. Va bene così. Gioca a Skylanders Battleclass, il gioco gratuito degli dispositivi immobili. Skylanders Battleclass Eruptor. Pacchetto robuste da 8 carte. 6 più. Dai vita ai tuoi Skylanders. Qua metti una carta di Spyro. Poi si può incontrare nel tablet. Ed ecco qua, è uscito uno Skylanders Spyro Battlecast. Non si sa di che ha noi. Guarda, questo è Stratelf. Dai vita alle carte. Per informazioni e giocabilità, visita il sito www.battlecast.com. Davies. Queste sono del 2016. Quando è uscita la serie Skylanders Academy 2017. Quando è uscito il gioco di Skylanders Imaginator. Che però non ce li ho. Il gioco di Skylanders. Tutti i giochi Skylanders non li ho giocati. Guarda cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato il mio Skylanders preferito dei non morti. Roar and Brawl. Sezzi eh. Abbiamo trovato una carta di Roar and Brawl. Di lami insegnate. Quando il possessore cambia il posto, taglia il nemico, attivo, infigenosi, 50 danni. Poi abbiamo Flynn. Abbiamo Flynn in cruda e leggera magia. Picchia un nemico, infigenosi, 10 danni. Si possono giocare le carte. Questo è Flynn che è stato battuto da un uomo. Queste carte si possono giocare anche senza il tablet, anche se il gioco non è gratuito. È passato un sacco di anni. Questo è Magia, colpo dell'uva 2. Colpisci ogni nemico, infligendosi 30 danni dai loro meno 30 potenze fino al prossimo turno. Questo è Food Fighter della Skylanders speciale. Il cuore Skylanders workforce. Questo è Flynn. Questo è il dottor Crankis, con il nemico di Skylanders, meglio Gabby di Crankis. Alla fine di tutto uno infigeno un nemico, 10 danni, ognuno di 10 livelli. Poi abbiamo ancora la mitica sessuale, il mio Skylander femminile preferito Role Brawl, che lancia questi tiri. Role Brawl sottrae un livello da un nemico. Questo che è il Chompini. Role Brawl è sexy. È il miglior Skylanders dell'elemento non morti. Questo è Magia Follata. Torge l'uva e colpo in primo piano il personaggio. Questa è la retro carta di Skylanders Battlefights. Peccato che non esistono più le carte di Skylanders Battlefights. Poi abbiamo Mana del Cielo. Pesca due carte dove ci sono T, Skylanders, questo è l'elemento Aria. Skylanders di Trap Team, questi che ho seguito il gameplay da Nickel Chase e quello che è. E questa abbiamo una carta di Split Star, Split File, Skylanders, Esposione Nitro. 5A, 280D. Che vuoi? Questo appartiene a Skylanders Superchargers. E questo è... non fotografare il Skylander. Abbiamo trovato proprio Split File. Speriamo di comprare altre carte in futuro. Va bene, sono curioso di sapere che sorpresa contiene nella balocco mini panettone dei Minions con gocce di cioccolato. Con la sorpresa manche un minio. C'è Bob, Kevin, Stuart. Guarda che bello, il mio minio preferito. Vedi Roller Brawl. Guarda. bello, ah, bellissimo. Poi il panettone. E sono tornati a fare i panettoni Minions. Guarda, Bob. Guarda che Stuart è carino. Uh, Stuart, Kevin, Bob, Minion. Con la sorpresa, nelle altre serie abbiamo trovato dei personaggi due di The Minions e vediamo che cosa abbiamo trovato quest'anno. abbiamo trovato il panettone. Buono. Abbiamo trovato un altro Minions 2D. Abbiamo trovato 8. 8 questo Minion qua. E la versione prototipa di 8. Abbiamo trovato un personaggio 2D come sempre. in Minion si trovano un personaggio 2D. Soft pvc. Come succede per Maitre Pony. Queste sono le fantastiche sorprese di panettoni dei Minions, Kinder Joy Funko e le carte di Skylanders Superchargers. non fatti le carte, va altre carte. Va bene. Come al solito, iscrivetevi al canale, mettete più mi piace. E con Roller Brawl per oggi è tutto. Ciao. Ciao. Guardate la testa di Flynn, guardate. Oh, mi sono una tutta. Aioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Grazie a tutti.